Allora, Basile, Locunto degli Conti, Prima giornata, prima giornata, introduzione. C'era un proverbio di quelli stagionati di vecchio conio che diceva che chi cerca quello che non deve trova quello che non vuole e la scimmia che vuole infilarsi gli stivali rimane presa per il piede. Come capitò a una stracciona di schiava che non aveva mai portato scarpe ai piedi e poi voleva portare una corona sulla testa. Ma poiché la mola raschia via tutte le asperità e ne capita una che le fa pagare tutte. Alla fine, per aver preso con l'inganno quello che toccava agli altri, finì in mezzo alla ruota dei calci e tanto più era salita in alto, tanto maggiore fu la sua caduta nel modo che segue. Si dice che c'era una volta il re di Valle Pelosa che aveva una figlia chiamata Zoza, che come un zoroastro, n'eraclito, n'eraclite, non rideva mai. La mofeta è il povero padre, è un re che non aveva altro fiato che questa figlia, faceva di tutto per toglierle la malinconia, facendo venire i trampolieri, quelli che saltano nel cerchio, ora i giullari, ora mastro giullero, ora i giocolieri, ora le forze d'Ercole, ora il cane che balla, o bracone che salta, l'asino che beve nel bicchiere, ora questo, ora quello, ma era tutto tempo perduto, perché neanche la medicina di mastro grillo o un colpo di spada nel diaframma le avrebbe fatto torcere un pochino la bocca in un cenno di sorriso, tanto che il povero padre, per fare un'ultima prova disperato, ordinò che si costruisse una grande fontana d'olio davanti alla porta del palazzo, con l'idea che schizzasse durante il passaggio della gente che andava facendo il via vai per quella strada e che per non ungersi i vestiti avrebbe fatto salti di grillo, salti da cabra, corsi da lepre, e scivolandosi e ortandosi con questo o quello avrebbe potuto capitare qualcosa che sarebbe riuscita a farla ridere. Costruita dunque questa fontana e mentre Zosa stava alla finestra tanto seria che pareva una cita, sotto a cita, capito per caso una vecchia che inzuppando una spugna dell'olio ne riempiva un vasetto che aveva con sé, faceva scorta e mentre tutta faccendata si dava da fare con il suo lavoretto, un certo paggetto di corte, un ragazzetto, lanciò un sasso con tanta precisione che colpì il vasetto della vecchia, facendola pezz. E così la vecchia, che non aveva peli sulla lingua e non permetteva a nessuno di montarla in groppa, si voltò verso il paggio e cominciò a dirgli eh, a me niente, merdosa pescià sotto, che a me sono un po' culo, capi imbiccati, porchi, guarda, 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 guarda che combinato, pure i pollici, te ne ha nato, te ne ha venuto a parole, che a mamma ti ha dato che tu non avrai opere i miei mangi, va che ti colgo un colpo di lancio catalana, che ti è una strappata di fumo che è stata una capita mila malanne, è qualcosa di più che è stata sprocausa, ma tuoi, questa figlia di una che fa il bel bestiere, Mariola. Il ragazzo, che aveva poca imbarba e meno discrezione, sentendosi fare questa succosa sfuriata, la pagò con la stessa moneta. Ah, non vuoi chiudere questa chiavica, nonna di un diavolaccio? Vomita a braccini, a fogo a bambini, cacapezze, scegli i peti. La vecchia, nel sentire questa novità di casa sua, si arrabbiò tanto, che perdendo la calma e scappando fuori dalla stanza della pazienza, alzato il sipario dell'apparato, fece vedere la scena boschereccia. A pettola, o pettola. E quando Zuzza vide questo spettacolo, le venne tanto da ridere che stava per restarci secca. La vecchia, sentendosi beffata, diventò così irrabbiosa, che voltata a una faccia da far spavento verso Zuzza, le disse Che tu possa mai vedere ma solo di un marito se non avrai il principe di Caprotondo. Zuzza si evitì queste parole e fece chiamare la vecchia. Vole sapere a tutti i costi se l'avesse soltanto insultata o le aveva lanciato una maledizione e la vecchia rispose Allora, sappi che questo principe che ti ha nominato è una splendida creatura che si chiama Tadeo che per maledizione di una fata è andata in me l'ultima pennellata al quadro della vita ed è stato deposto in un sepolcro fuori le mure della città dove c'è un'epitaffia ci sta scritto che quale femmina riempia di piante in tre giorni una broc che sta proprio la pesa a un guance lo fa risuscitare e lo avrà come marito. E poi che è possibile che due occhi umani possano pescettare tanto da riempire in una brocca così grande a meno che non sia come ho sentito dire quelle gerie gerie a Roma che dove andavano affondare i lacrimi e io sentendomi dileggiata e beffata da voi pozzorri vi ho lanciato questa maledizione sovranità e preghi incelegata con gli invieno per l'ingiuria che mi hai fatto. E così dicendo se la squagliò giù per le scale temendo qualche sbattuta ma Sosa in quello stesso momento cominciò a ruminare e a rimasticare le parole della vecchia e un diavoletto le entrò nella testolina dopo aver girato un bindolo di pensieri e un mulino di dubbi intorno a questa faccenda alla fine trascinata dall'argano di quella passione che cieca il giudizio e incanta il ragionamento preso un pugno di scudi dagli scrigni del padre filò fuori dal palazzo e tanto camminò che giunse al castello di una fata con lei fece sbollire il suo cuore e lei vedendo questa bella ragazza la fata le diede una lettera di raccomandazione per una sua sorella fatata anche lei e dopo averle fatto tanti complimenti la mattina quando la notte fa pubblicare dagli uccelli il bando per chi ha visto un branco di ombre nere che si sono sperdute ci sarà una buona ricompensa e le diede una bella noce dicendo tieni figlia mia tienti la cara ma non aprire mai questa noce se non in un momento di gran necessità e con un'altra lettera la raccomandò ad un'altra sorella arrivata da questa dopo un lungo viaggio fu ricevuta con la stessa amorevolezza e la mattina dopo ebbe un'altra lettera per l'altra sorella con una castagna e lo stesso avvertimento che le era stato dato con la noce e dopo aver camminato giunse al castello della fata che le fece mille carezze e la mattina al momento della partenza le consegnò una nocciola con lo stesso avvertimento di non aprirla mai a meno che la necessità non ti scanni avute queste tre cose Sosa si mise le gambe spalla e girò per così tanti paesi attraversò così tanti boschi e così tanti fiumi che dopo sette anni proprio quando il sole ha messo sulla sella per correre le solite poste svegliato dalle trombe De Galli dopo sette anni arrivò quasi senza coda a Camporotondo dove prima di entrare in città vide un sepolcro di marmo ai piedi di una fontana che vedendosi in un carcere di porfido piangeva lacrime di cristallo da qui prese la brocca che stava appesa là e se la mise tra le gambe cominciò a fare i due simili con la fontana a piangere e senza mai alzare la testa dal boccaio della brocca tanto che in neanche due giorni era arrivata con le lacrime a due dita sopra il collo e non ci mancava che altre due dita e sarebbe stata piena ma stanca per tutto quel piangere fu senza volerlo imbrogliata dal sonno e fu costretta a riposare un paio d'ore sotto la tenda delle ciglia nel frattempo una certa schiava gamba di grillo che andava spesso a riempire un barilo a quella fontana e sapeva la faccenda dell'epitafio perché se ne parlava dappertutto quando vide Zuzza piangere tanto che faceva due rivoli di pianto se ne stette a spiarla a lungo aspettando che la brocca fosse ben piena per strapparle dalle mani questo bel bottino e farla restare con un pugno di mosche in mano così appena la vita tormentata approfittando dell'occasione levò la brocca da sotto e messi i suoi occhi sopra in quattro pizzichi di lacrime la riempì e appena fu piena fino all'urlo il principe come se si svegliasse da un gran sonno si alzò da quella cassa di pietra bianca e si attaccò a quel mucchio di carne nera e portandosela subito al suo palazzo con feste illuminari incredibili se la prese in moglie ma quando Cosa si svegliò e trovò vuotata la brocca e con la brocca le sue speranze e vidi la cassa aperta le si strinse il cuore tanto che fu sul punto di aprire i fagotti dell'anima alla dogana della morte alla fine vedendo che non c'era rimedio al suo male che non poteva lamentarsi d'altro che dei suoi occhi che avevano mal sorvegliato la vitella delle sue speranze si avviò piede dopo piede fin dentro la città dove sentito delle feste del principe e di che bella razza di moglie si era preso immaginò subito come poteva essere andata la faccenda e disse sospirando tra se e se che due cose nere le avevano messo a terra il sonno e una schiava tuttavia per tentare tutto il possibile contro la morte dalla quale ogni animale si difende quanto più può prese una bella casa di fronte al palazzo del principe da dove non riuscendo a vedere l'idolo del suo cuore almeno contemplava le mura del tempio dove era rinchiuso il bene che desiderava ma un giorno fu vista da Taddeo che come un pipistrello volava sempre attorno a quella nera notte della schiava di moglie e che diventò un'aquila fissando cosa dalla finestra che era lo sproposito dei privilegi della natura e fuori mi chiamo del gioco della bellezza la schiava se ne accorse e fece cose dell'altro mondo sentendo ed essendo già stata ingravidata da Taddeo minacciò il marito dicendo Taddeo scedda alla finestra non ti levare me pugni in pancia dare e Giorgettino ammazzare Taddeo che era preoccupato per la sua discendenza tremando come un giunco e per non darle alcun dispiacere si staccò dalla vista di Zosa come un animo si disincastra dal corpo e lei che vide togliere questo pocolo di Brodino alla debolezza delle sue speranze e che non poteva e non sapeva cosa fare ricordò dei suoi doni e aprendo la noce e uscì fuori un nanerottolo grande quando un pammolotto o il papazzetto più saporito che si fosse mai visto al mondo e che salite sulla finestra cominciò a cantare canto con tanti trilli gargarismi gordeggi che sembrava un comparbiondo era bravissimo si lasciava di a dieco il cieco di potenza il re degli uccelli tant'era bravo e per caso la schiava lo vide e lo sentì e gli venne una tale voglia che chiamato Taddeo gli disse se non avere quel diavoletto che canta mi pugni in pancia dare e Giorgettino ammazzare il principe che si era fatto mettere la bordatura all'amoresca mandò subito a chiedere a Zosa se glielo voleva vendere e lei risposa che non faceva la mercandessa se lo voleva lo prendesse pure gliene avrebbe fatto omaggio e Taddeo che desiderava solo accontentare la moglie perché portasse a buon fine la gravidanza accettò l'offerta ma dopo altri quattro giorni Zosa aprì la castagna e ne uscì una chioccia con dodici pulcini d'oro che furono messi sulla stessa finestra e la schiava che li vide ne ebbe una voglia che arrivava fino all'ossicina dei piedi chiamato Taddeo indicandogli quel così bello oggetto e gli disse se quella chioccia non prendere me pugni in pancia dare Giorgettino ammazzare e Taddeo che si lasciava prendere con le minacce e si faceva portare in giro dalla coda di questa cagnaccia mandò a chiedere a Zosa offrende quanto sapesse chiedere per una cosa così bella era una chioccia bellissima e da lei ebbe la stessa risposta di prima che la prendesse il regalo perché a parlare di vendita perdeva il suo tempo e lui che non poteva farne a meno la prese e strappando questo dal balcone restò colpito dalla liberalità di una femmina che sono per natura così avide che non gli basterebbero tutti gli ori che vengono dalle Indie pensò ma passati altrettanti giorni Zosa aprì la nocciola da cui uscì fuori una bambola che filava oro cosa davvero da lasciare stupefatti che era stata appena messa sulla finestra che la schiava sbattendoci il naso chiamò Taddeo dicendogli se bambola non comprare mi pugni in pancia dare Giorgettino ammazzare e Taddeo che si faceva girare come un piccolo arcolaio e si faceva trascinare dalla superbia della moglie da cui si era fatto mettere sotto non avendo il coraggio di andare a chiedere la bambola la zoza vuole andarci di persona ricordandosi del detto non c'è miglior messaggero di te stesso chi vuole va chi non vuole manda e chi vuol mangiare pesce deve bagnarsi la coda e dopo averla a lungo pregata di perdonare la sua indiscrezione dovuta alle voglie di una femmina gravida zoza che se ne stava in sollucero accanto alla causa delle sue traversie fece forze a se stesse e si lasciò strapregare per trattenere i remi e godere più a lungo della vista del suo signore che gli era stato rubato da una brutta schiava alla fine dandogli la bambola come aveva fatto per le altre cose prima di lasciargliela pregò quella cosetta quella cosetta di creta di soffiare nel cuore della schiava la voglia di sentir racconti Taddeo che si vide la bambola in mano e senza sborsare neanche una monetina da un soldo restò colpito da tanta cortesia e le offrì il suo stato e la sua vita in cambio di tanti favori e tornato a palazzo diede la bambola alla moglie che se le era appena messa in braccio per giocarci che quella sembrò amore in forma di ascanio in braccio a didone le mise il fuoco nel petto perché le venne un così bruciante desiderio di sentir racconti che non riuscendo a resistere temente di toccarsi la bocca e di fare un figlio chiacchierone chiamò il marito e disse se non venire se non venire gente e racconti raccontare me pugni in pancia dare e Giorgettino ammazzare da Deo per levarsi da torno questo guaio di marzo fece subito pubblicare un bando che tutte le femmine di quel paese venissero in tale giorno e quello allo spuntar della stella Diana che sveglia l'alba perché prepari le strade dove deve passeggiare il sole in quello si trovarono tutte nel luogo convenuto ma Taddeo non sembrò opportuno trattenere tanta marmaia per un piacere particolare della moglie a parte il fatto che lo soffocava vedere tanta folla così tra queste femmine ne scelse solo dieci le migliori della città quelle che gli sembravano più esperte e linguacciute e furono Zezala sciancata cecca la storta meneca la gozzuta tolla la nasuta popa la gobba antonella la lumaca ciula la labbrona paola la strabica ciommetella la ringhiosa e giacova la mertosa e scritte su una carta queste mandate via le altre si alzarono con la schiava da sotto al baldacchino e si avviarono piano piano in un giardino del palazzo stesso dove i rami fronzolavano i così belli erano intricati che il sole non li riusciva a dividere con la pertica dei raggi e seduti sotto un padiglione avvolti da una pergola d'uva dove in mezzo scorreva una gran fontana maestra di scuola dei cartigiani perché gli insegnava ogni giorno a spettegolare Taddeo non c'è più cosa saporosa al mondo quanto sentire i fatti degli altri e quel gran filosofo disse che l'ultima felicità dell'uomo è il sentire racconti piacevoli perché ascoltando cose amabili gli affanni evaporano i pensieri fastidiosi vengono sfrattati e la vita si allunga per questo desiderio vedi gli artigiani lasciare le botteghe i mercanti traffici gli avvocati le cause e vanno a bocca aperta per le botteghe dei barbieri e per i crocchi dei chiacchieroni sentendo false novità avvisi inventati e gazzette d'aria per questo devo scusare mia moglie che si è feccata in testa questo malinconico desiderio di sentir racconti per questo se vi piace colpire nel centro della voglia della mia principessa e di colpire nel mezzo dei miei desideri contentatemi per questi 4-5 giorni di cui ha bisogno per scaricare la pancia e di raccontare ogni giorno un racconto per una di quelle appunto che le vecchie di solito raccontano per passatempo dei più piccoli ritrovandovi sempre in questo posto dopo aver mangiato si darà inizio alle chiacchiere chiudendo la giornata con qualche egloga e sarà recitata dai nostri stessi servi per passare allegramente la vita e poveretto chi muore a queste parole tutte accettarono con un cenno da testa l'ordine di Taddeo e poi apparecchiate le tavole e portato il masticatorio si misero a mangiare e quando la smisero di inghiottire il principe fece segno azzezza la sciancata da fuoco al cannone e lei fatto un grande inchino al principe e alla moglie cominciò a parlare di inghiottisio di inghiottisio